Arriva Natale, arriva la festa del Top Gun Fans Club, Pippo qui rilassato tra la stagione finita e la stagione che presto andrà a iniziare. Subito una domanda brucia a pelo, se guardi indietro al 2023 in sella cosa ci dici? Di sicuro in sella è stata una bella stagione alla fine, credo che abbiamo fatto tutto quello che era da fare, abbiamo raggiunto tanti obiettivi che erano in programma, alcuni sfiorati per poco, anche se sono in secondo posto, però magari ha dato anche quel bruciore, quel sentore di dire l'anno prossimo mi devo rifare e siamo qua quest'oggi sperando di festeggiare con la gente più cara i bei momenti trascorsi insieme. La cosa bella, citiamo le due di secondi posti anche se magari fa male, Milano-Sanremo, che poi non è che tutti arrivino secondi alla Milano-Sanremo, e il Mondiale a cronometro, la cosa bella che è piaciuta, che sia contro Van der Poel sia contro Evenepoel il tuo primo pensiero non è stato ok sono arrivato secondo, sono contento, ma come hai detto va bene, quest'anno hai vinto te, ci vediamo l'anno prossimo. Ogni anno ognuno cerca di migliorare, cerca di fare sempre meglio, loro quest'anno sono arrivati, lui anzi, Renko, mi è arrivato davanti a Crono e Van der Poel al Sanremo, però ovviamente ogni anno si cerca di migliorare, lavorare e tirare quella sticella sempre più in alto. Adesso è un bel momento per recuperare energie, sono appena uscito anche da una brutta influenza che mi ha tenuto un po' fermo in un'altra settimana, ho posticipato la ripartenza, però dai, l'obiettivo fondamentale l'anno prossimo sarà l'Olimpiade, quindi un po' di tempo avanti ce l'abbiamo. Olimpiade, poi preparerai l'Olimpiade con il Giro d'Italia che è un po' la tua corsa, un po' la gara che ti ha fatto diventare al di là di un corridore, un personaggio noto. Olimpiade, c'è un quartetto straordinario da riportare al Sotano del Mondo e poi c'è Stacronometro per dare la rivincita al ragazzino belga. Sì, credo che l'Olimpiade sia un po' la gara a sé perché ognuno quando arriva è sempre di un gradino superiore perché è un'Olimpiade, non che le altre gare uno vada spensierato, anzi, credo che la tensione dell'atleta ci sia ogni volta che si mette un numero sulla schiena, però è l'anno che voglio far bene, è l'anno dove voglio portare a casa quello che mi aspetta, quello che volevo e so di avere tutto lo staff e persone accanto che mi aiuteranno nell'impresa.